ma così in primo piano siamo skip qualifica parrucchiere la skip è un parrucchiere che 19 anni fa tipo si è messo a tagliare i capelli quindi organizziamo feste, facciamo mostre, poi è skip la comune che è il mio cognome ormai quindi la comune è il nostro spazio che abbiamo aperto a tutti, libero winter case perché? per sempre perché? per me è una forma di unione tra vari gruppi palermitani che appunto nell'unione riescono a creare qualcosa di più grosso un festival un po' più importante rispetto a quelli che abbiamo fatto sempre in questi anni saluti in camera o saluti ai fan? winter case ciao 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 Grazie a tutti